L'impasto a sciutta, uoi! Ma non capisci niente? E che diavolo, sei tu un sopravvio! Queste due donne, a noi ci servono, queste conoscono tutti i migliori impresari di Parigi e ci servono per introdurci, hai capito? Sì. È questione di... Di... Hai capito? Come di? È un... Tanti, sono loro! Hai giusto della cravatta? La metterà? Io sono, va beh, non so. Io sono lo patasciutta. Ah, questo è il patasciutto, che devi capire? Fermate. Mimiscia de Clair, celebre artista di Granvaglia. E lui? Lui non conta, lui è un peso morto, è il mio secondo. Sieri! Ma voi italiani siete così caldi, bruciate il tempo! Cosa vuole? Di fronte a due bellezze simili, io brucierei tutto, come Pitagora! Enzi, andio! Ma lui non brucia, non si scalda? Io al massimo divento tiepido. A me i piedini piacciono. Vieni, dimmi qualche cosa. E di qualche cosa. Cosa? Buonasera. Sì, buonanotte. Digghi. Chérie, je t'aime, mon petit chou, achanté, séparé. Sì. Sì, pensate subito a séparé. Anche. Ecco, e lui voleva domandarvi. Parlo io. Dunque, io volevo domandarvi se loro potrebbero introdurci nell'ambiente, ecco, nel vostro ambiente. Ah, perché anche loro due vogliamo essere introdotti nel giro, ecco. Nel... Ah, perché? Anche voi contro un attu? No, contro un basso. Io sono il primo, lui è il secondo. Eh, ma lo chiamano contro un basso. Adio, ma cosa c'è stasera ancora a faccia? Sono per l'ultima sera con voi, purtroppo mi è arrivata la cartolina. Cattiva rodizia da casa. No, a casa tutti bian, ma mi è arrivata la cartolina prescetta. Pensate un po' che dovrò fare 18 mesi di servizio militare. Vi va indire? Magari, ma io devo fare il soldatino. Ausiliaria? Ma no, saranno queste donne poliziotte, sai? Ma non, ha toccato ausiliaria. Sveglia all'alba, marche forzate, divise che bussano, e che cosa è vegeo e che vi taglieranno tutti i capelli bianchi. A proposito, in chiama t'hanno messa? Nei parà. Parà? Parà che cosa? Parà cadutisti. Ma scusi, non ci sarà un errore? Forse la cartolina era diretta al suo fratello? Ma no, io ho soltanto due sorelle. In casa l'unico maschio sono io. Eh, eh. Scusi, no, anche loro si trovano nelle medesime condizioni di ella? No, fortunatamente no. No, noi militari l'abbiamo già fatto. Ma dove andate? Ma non volevate essere introdotti nell'ambiente. Oh! Forza! Che gente! Ma non hai visto? Non facci caso, Carlo. Sono due provinciali. Cin, cin. Scusi, ho detto scusi. Eh, lei. Quando uno dice scusi? Sì. Sì. Ma guarda. Ma guarda. Ok, 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 ok. Garazzo ! Monsieur. Ci porti una bella bottiglia di champagne fresca. Sta sotto la fontana. Ha detto, vieni. Messie, sai che significa? Signore.